Possiamo iniziare questa giornata, do il benvenuto a tutte e il benvenuto a tutti a questa prima edizione di A Proposito di Futuro. Dialoghi su scienza e immaginario, organizzato da Tre Cani Futura, organizzato da Human Technopole e con la curatela di Simone Arcagni e Cristiana Raimo. Io sono Andrea Daniele Signorelli, sono un giornalista, mi occupo di innovazione digitale e avrò poi il compito e il piacere di coordinare le due tavole rotonde che puntelleranno un po' questa giornata all'insegna della tecnologia, dell'arte, della cultura, della scienza e di come tutto ciò sta avendo un impatto importante, significativo e anche potremmo dire tra luci e ombre su tutta la nostra società. Per dare l'avvio e ringraziandovi per la partecipazione e dando l'avvio ufficialmente a questa giornata per i saluti istituzionali, do il benvenuto al presidente di Human Technopole Gian Mario Verona. Benvenuto. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora è un immenso piacere ospitarvi innanzitutto prima che in Human Technopole nella sede di MIND, come sapete il Milano Innovation District che è stato prodotto in coda alla Expo e che appunto abbiamo con successo organizzato nel 2016 in Italia e a Milano. Questa zona è stata costituita in coda a questo evento proprio per valorizzare non solo la città di Milano e la regione Lombardia ma per cercare di dare un impulso e creare un ecosistema legato al mondo dell'innovazione. Sono state fatte tante cose a partire dal 2017 e abbiamo tante iniziative che vengono appunto svolte qui dentro tra cui appunto la fondazione Human Technopole che è una fondazione nata proprio nel 2017 con l'obiettivo di sviluppare ricerca di base con una ricerca di alto profilo dal punto di vista scientifico sul tema della medicina personalizzata e preventiva. Uno dei temi fondamentali di crescita e di ricerca per quanto concerne il settore delle life science. Assima a Human Technopole ci sono tante altre iniziative all'interno di questo distretto. Avete visto l'ospedale Galeazzi probabilmente venendo che è appena stato appunto aperto e inaugurato. Abbiamo appunto la sede di AstraZeneca a livello internazionale, la sede di Illumina e sempre di più verranno altre istituzioni. L'università statale qui di fronte costituirà un'importante sede per quanto concerne tutta la parte scientifica e fisica e quindi diciamo che questo distretto diventerà sempre di più un cuore pulsante, un cervello potremmo dire di quella che è la nostra Milano. Qui dentro peraltro è proprio il Palazzo Italia dove abbiamo organizzato la parte italiana più importante dell'Expo nel 2016. A me piace molto appunto vedere che Human Technopole assieme a Tre Cani Futura, che ringrazio, ha organizzato questo evento perché è un evento che parla di futuro e lo fa in una dialettica che io trovo particolarmente affascinante perché crea una sintesi tra due mondi che tipicamente nella narrativa quantomeno mediatica non si parlano, il mondo della scienza e il mondo dell'arte e della cultura che ha a che fare ovviamente con tutta una serie anche di aspetti umanistici che sono visti a volte come dei poli opposti. In realtà, come sappiamo bene, il mondo appunto della cultura, il mondo dello sviluppo scientifico è un mondo che deve creare sempre di più delle sintesi, deve portare sempre di più, come si dice anche nel linguaggio scientifico, a sviluppare il pensiero critico che è proprio figlio di una cultura classica, di una cultura di carattere umanistico e artistico e quindi avere questo tipo di appunto dialoghi, questo tipo di sintesi in un contesto scientifico è qualcosa di cui personalmente sono molto fiero. Quindi ringrazio ancora i miei partecipanti, i vari panel e i vari ovviamente momenti di questa mattinata e tutti voi che siete venuti qui a Human Technopole. Buona giornata!